Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno! Ci sarà allora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà in crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi ci abbattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini del nome! Uomini del nome! Uomini del nome! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.